bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo prossimo video io sono vittorio master89 e oggi faccio la seconda parte del video che avete visto prima ciao e qui è dove ha vinto quel bastardino di tommasino e adesso faremo l'unico amici per la pelle e tu hai fatto il gioco vita allora ragazzi adesso vi spiego in che consiste il gioco il gioco è amici per la pelle ci darà quattro opzioni perché le levette vedete che sono quattro ognuno selezionerà una levetta del tipo facciamo qual è la tua macchina preferita facciamo che ci esce che ci esce ferrari lamborghini lamborghini yaris yaris e la q3 e la q3 se io seleziono questo facciamo che questa freccetta indica si indica la ferrari invece questa indica la yaris questa qui indica la q3 e questa qui indica la la cosa l'altra e se io e tommaso selezioniamo le stesse freccette siamo amici per la pelle però ci saranno quattro volte no cinque volte e poi all'ultimo ci sarà un minigioco da fare insieme se lo facciamo perfettamente ora ci sono due coppiette con un coso uno d'oro e uno scuro perché sono i due amici per la pelle e i due che si odiano cioè i canvoli che hanno selezionano tutte le freccette diverse no si è la mia coppia è composta da felicia e tommaso e tommaso poi la mia coppia è composta da mamma e papo e paonzo che sarebbe mio padre e mia madre cioè quindi i tuoi fratelli si amano e i tuoi genitori si odiano non vedo vai ok il primo round non dovremmo vedere tutti io farò vedere a loro che cosa seleziono che dio sauro preferisce il brontosauro per dentro sauro no no è il pedodattico preferiresti uccidere un drago o un cavaliere? ucciderlo preferiresti uccidere un drago o un cavaliere? no no o cavaltarlo no ah che numero preferisci? 3 e 7 3 sta sopra e 7 sta giù ok 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 no ok no ok cosa ti piacerebbe vendere da un classico cioschetto limonata gelato limonata gelato e kebab 2 1 2 il mio selezionato 2 2 3 in quale animale preferisci poter trasformarti rana elefante agule del scarico 3 2 1 2 3 3 3 3 3 6 in coppia va andiamo a fare il mini gioco ragazzi perchè non vengo alla tv perchè si vedrebbe così? già quindi si vede ok ragazzi questo è il mini gioco e dobbiamo poter aprire la paglia aprire la paglia aprire la paglia ok vai no insieme dovremmo aprire la paglia non ci pensiamo vai vai non ci pensiamo magari perché alla lui potrebbe anche capirlo io così pochi ok ok tu hai fatto un altro aiutami ok aiutami ok cosa faccio io poi no adesso lo posso io no che vuole tornare ah è il barale non avevo un carino di scuola leva le tornare cosa hai toccato eeeh non c'è io ok mi ti riesci da qua ok vai eeeh puntano ciutti ci vediamo su leva o tu vai dietro ok su tanto ma che sei vuota come sei vuota ah 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 ok ok e ti mi devi aiutare qui nel mio tuo corpo ma aiutami ecco non mi mi stai facciugami non mi stai facciugami non mi stai facciugami ma tu mi stai facciugami levati levati tu levati che cosa faccia io ok abbiamo messo un minuto sei sei secondi e quattro decimi io l'ultima volta ci hanno messo tipo 7 minuti ah 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 ma capire ma cosa dobbiamo farci siamo caduti perfetti siamo caduti perfetti perchè ho cadito il culo quindi vuol dire che avete fatto schifo come coppia ben fatto andremo ora per annunciare il vostro ok ok vediamo cosa abbiamo selezionato io ho detto ma ho 62 per cento di poto il posto di me è di 63 miliardi oddio per favetto dai ma no ok ma sono tutto uno brava abbiamo fatto solo uno diverso secondo me se cosa hai messo il caso cosa vorresti uccidere il trago? ah no contosauro contosauro insieme cavallcarlo cavallcarlo insieme sette sette il gelato ah perché non avevi messo niente perché volevi mettere il gelato? si 9 e 12 5 aquila aquila c'è c'è l'avremmo fatto tutto perfetto se non sbagliamo lì perché qua lì io vedo all'incontrario questo per me è destra per voi assolutamente l'altra volta l'avremmo fatto io ho vinto 76 punti come vedrete no non potete vedere ma abbiamo fatto 62 punti non lo facciamo ma facciamo ma facciamo così c'è l'avremmo un sacco di tempo che potremmo operare il massimo il massimo di ogni cosa ok no ok vabbè mi accoppia mi accoppia andiamo al personale domanda numero 4 adesso io faccio vedere ecco la prima domanda che risponde per quanto mangi la ciliegina su una fetta di torta? per prima per ultima per prima per ultima a me non mi piace poco la ciliegina secondo domanda come va la ciliegina? preferisci fare un volare un acuilone o un dirigibile? acuilone dirigibile ecco la terza domanda non avete problemi in macchina preferiresti da lasciare un cavallo ma andare in bicicletta? cavallo o bicicletta? che c'è? cosa vorresti per difenderti dalla ciliegina? faccio portapenne graffetta faccio portapenne graffetta che ho messo a caso? cosa preferisci calciare? rigore la sfortuna barattolo pallone rigore la sfortuna barattolo pallone a a e il copia andiamo al minicare ok ah questo è figo che si fa? dobbiamo andare a corso a questa cosa ah capisco dobbiamo girare insieme ok cioè raga dobbiamo guidare insieme se io guido in quarto ma su di vai vai giriamo in quarto Tornana, tieni qua! Tornana, tieni qua! Tornana, tieni qua! A sinistra, un favore! A questa, attraverso! Tornano, prendiamo insieme! Ma, tieni? un turno l'abbiamo preso uno a destra 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 48 secondi e 9 decimi i pinguini ci festeggiano è bello che prima abbiamo fatto un minuto quindi forse siamo atterrati perfetti e non di buro e non di capo come fa con te senza girarci ce la dico i fanno che non possono vedere che merda 56% raga e siamo pure con te sempre l'ultima per ultima attraverso il mandorupiano mandorupiano diregibile diregibile tutta la vita cavallo faccio fare la meglio come la sportuna? vorresti cacciare la sportuna? io ho selezionato pallone perché forse hai visto dal video il video tipo se clicchi se clicchi qua sembra a destra adesso io lo faccio vedere vivo adesso tipo lo metti tu poi te ne vai lo metto giù ok adesso quindi rigiocchiamo vai lo metti prima lo metto io siamo a 10 minuti domanda numero uno settimattina allora leggi la domanda va bene ok cosa pensi sia un carino un cagnolino un gattino ehm tre oh vado cazzo dove vai? preferiresti saltare da un trampolino o da un treno? trampolino treno tre due vado allora devi vedere piace più parlare ascoltare parlare ascoltare che ruolo ti piacerebbe ricoprire in un rock band? corrista tascherista fascista fascista no in quale animale preferiresti corrista elefante farfata rana agula tre due in questo posto che c'è ancora in coppia in coppia andiamo a fare il mito tra due minuti dobbiamo ok ragazzi qui e quello lato abbiamo detto dobbiamo spostare insieme tu sposti l'ero sicuro dovrò prendere bene vittorio 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 vai vittorio vai vittorio facciamo con acqua ok fatevi vedere fatevi vedere aspetta forse lo vedete andando le pecore è da sopra eh la vedo eh smucia vedete vieni dentro con la letra in serio comandiamo super lungo questo comandiamo questa con la letra ok come girate adesso vittorio e vittorio le pecore è sì no è è di me aspetta che non lo sta figurando qui aspetta ok 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 aspetta vai giro vai vai vittorio vittorio il pecore super lungo cazzo 12 abbiamo preso 12 per e va io direi il posto in modo a quel video non ci vediamo al prossimo video lasciate un like condivete iscrivetevi non ci vediamo al prossimo video adesso vi dico il risultato siamo atterrati bene 46 cagnolino tutti e due io trappolino lui tre parlare cazzo non ci vediamo un po' un po' Grazie a tutti.